dan levi sc4 importanti maestose impressionanti lineari coerenti dinamiche e con una grande accuratezza timbrica dal geniale progettista delle dantec john dan levi eccovi un diffusore che vi farà dimenticare che la musica esce dagli altoparlanti sarà piuttosto una immersione nel suono reale con la loro altezza di 182 cm possono rendere la vostra stanza una grande sala da concerto profondità 45 cm larghezza 30 peso 86 kg sensibilità 92 db risposta in frequenza da 25 a 20 mila hertz per una impedenza di 5 ohm sono un tre vie in configurazione d'appolito in sospensione pneumatica sono costruite negli usa colorato springs a questo prezzo ovvero 4500 euro un affare irripetibile in sospensione in sospensione Grazie a tutti. Grazie a tutti.